Ho accompagnato mia moglie a San Sebastien per il Festival del Cinema. Lavorava come ufficio stampa. Ecco, Filippo. Adoro come si veste, è così chic. Io non faccio che discutere di ogni cosa, che cosa voglio, chi sono. Chi sono nel mondo? Filippo è anche un fantastico suonatore di bongo, non è eccitante? Più di quando Neil Armstrong camminò sulla luna. Lei è sotto stress. Il mio matrimonio si sta sfaldando. Posso essere sincera? Il mio matrimonio mi fa stare male. E sta riesto al dia a fuori? Mi dispiace, ti scusa. Chi sei tu? Sono un amico. Beh, abbiamo fatto un buon lavoro oggi. Tu l'hai fatto, sei stato incredibile. Di che cosa parliamo? Questo è tutto ciò che esiste o c'è di più? Le risposte non sono sempre quelle che uno vuole sentire. Lei dice che mi attreggono donne che mi faranno del male. Ho visto Sue stamattina. All'inizio pensavo di interrompere qualcosa, ma poi ho capito che era tua moglie. Ho avuto l'occasione di guardare la mia vita e mi sono reso conto di avere preso un sacco di decisioni sbagliate. Ho avuto l'ändri. Ho avuto l'applicazione. Ho avuto l'applicazione. Grazie a tutti